avevo i compiti a casa e comunque ricordo un sacco di persone che poi come dicevo qua anche che qua mi dicono non mi vedono mai vero non mi vedete mai in giro io faccio vita molto ritirata però quello fu per me un periodo ed ero così prima della radio poi ho detto sono ritornata nel mio mondo però con tutto questo bagaglio di musica tanto è vero che mi era rimasta talmente tanta voglia di musica cioè prima ho tirato giù tutta la musica che mettevo in radio con diciamo con come si dice con la ricerca esatto con la ricerca tutti tutti i pezzi quindi lì un tuffo e poi ho aperto una pagina su facebook nessuno la sa qui a Fano c'è qualche mi piace di qualche amico ma io non l'ho detto a nessuno dei fanici sui 15 mila dai non sono pochi no like eh sì appunto l'ho chiusa perché anche lì c'è diventa un impegno diventa un impegno molto molto forte proprio adesso che comincia ho avuto molto successo però l'ho chiusa l'ho chiusa per il momento diciamo nascosta non so se poi ci ripenso che la riapro proprio perché ho bisogno di condividere e quindi ho visto che sì ho avuto un certo successo anche lì e adesso l'ho chiusa da dieci giorni è musica 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 buona musica musica e anche lì è una ricerca quindi è un rimanere c'è musica di questi tempi l'ho chiamata degli anni 70 80 90 con un occhio al presente perché in realtà io seguo tuttora la musica anche la nuova musica anche se devo dire che la nuova musica ce n'è poca che mi entusiasma non so se siete no non siete d'accordo non sei d'accordo tu ancora la trasmetti sì voglio dire salvo poco della della nuova musica c'è insomma voglio dire io continuo questa mia ricerca per conto mio della musica perché la radio libera mia mi ha regalato questa questa grande emozione che per me continua a vivere ho detto sempre con il prima il ponzetto si chiama vero il signor si è si è commosso però veramente io quando riascolto la musica di quegli anni mi commuovo anch'io non lo faccio vedere ma veramente mi commuovo anch'io e quindi sono stata contenta dell'invito di luca e venire qua anche se io dico una cosa ho centrato sempre poco in questo mondo siete tutti io vedevo che eravate tutti molto più bravi di me molto io non sono un'esperta di musica come dice io amo tutta la musica amo anzi dico chiudo con questo in radio ero stata definita la dj delle signore e quella che metteva la musica italiana io in realtà sono un amante del rock della discoteca più sparata a me piace tutta la musica e mi piace anche la buona musica italiana i grandi cantautori mi piace tutto quindi in realtà anche in radio era venuta fuori solo una parte di me ok me la faccio a casa adesso no e lascio e lascio no anzi sarei molto curiosa un giorno ci incontreremo visto che questi dibatti ti serviranno un pochino aprire anche i dialoghi no i confronti e come come te la vivi tu adesso la radio cosa vuol dire vivere adesso una radio per esempio e guido con questo io allora non non sapevo l'inglese no mi sentivo tagliata fuori vabbè lasciamo questi ricordi ho detto ho portato un po di miei ricordi personali e neanche io mette mi dopo sì mi sono fregata per quello non sapendo dire i titoli in inglese allora esatto esatto però in realtà e poi volevo non credo che qualcuno porti un saluto ci siamo conosciuti in tanti tutti praticamente i fanesi i ragazzi fanesi di allora giravano in radio però c'è un amico che probabilmente stasera non è qui che vorrei salutare magari che qualcuno gli porti il nostro saluto che è marco marco maggioli marco maggioli perché 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 è stato aveva una trasmissione potente e la sua e non so mi sembra che trasmettesse in coppia leo sì esatto leo e marco io non le ricordo sì era lui e loro la musica quella vera quella dei dj quelli veramente in gamba era la sera infatti a me mi mettevano sempre la mattina cioè io aprivo però no scusate però io sono stata come pippo baudo nazional popolare io ho avuto degli anni di un successo incredibile no vabbè però diciamo la verità non ero io c'erano dei ragazzi veramente bravi in radio veramente bravi che magari è più specialistico sì certo però la radio aveva dove essere anche trainata dal contatto con la gente sì certo certo sì ho sempre sottovalutato dal mio punto di vista gliel'ho proprio detto di di persona è stato uno che è riuscito a raccogliere una quantità di pubblico che io credo poca sì parli dei fatti recenti pochi speaker fanesi sono riusciti a radunare tutto quel pubblico tutti insieme uno di queste eri tu fra sì però francesco diciamo continuato c'è francesco un altro personaggio un grande personaggio continuato io quello che voglio dire che in realtà essere un bravo speaker non è necessariamente mettere della musica infatti io è questo che ho voluto dire con quello che stavo dicendo che io sono una grandissima amante della musica senza essere nulla di non sono specializzata né in questo né in quello non ho dischi non ho però molta della musica che metti tu in realtà la mettevo anche nella mia c'hai capito quindi così per dire che però io vedevo che c'era gente molto più in gamba di me ecco questo volevo dire dopo ecco una cosa che magari nessuno se lo ricorda ho un primato ho un primato italiano io questo l'ho detto anche lì però non abbiamo mai appurato veramente se fosse vero meno vado via e vedi perché francesco mi sgridava sì no che io sono stata la prima presidente donna in italia di una radio libera mi ricordo sì quella era stato detto una conferenza a roma mi avevano eletto presidente per qualche tempo ero donna e quindi sono stata una delle grazie luciana grazie mentre maurizio misuriello scalda i motori perché dopo tocca a te un piccolo contributo ci sono dei contributi anche quest'oggi c'è un programma penso comune a tutti noi perché i ragazzi italiani dal 71 fino al 77 alle 8 della sera si sintonizzavano sul primo canale di radio rai per sentire super sonic dischi a mac 2 allora siamo riusciti ad avere un contributo di antonio de robertis che è uno dei degli speaker ufficiali di super sonic e abbiamo un intervento attuale quindi antonio de robertis penso quasi 75 anni oggi e abbiamo ci ha mandato una chicca è una registrazione di super sonic del 1974 sentite sentite un po che cosa veniva fuori brandy florio e brandy naturale brandy florio la sua forza sta nelle origini brandy florio vi invita ad ascoltare super sonic dischi a mac 2 buonasera buonasera a tutti antonio de robertis vi saluta stasera dallo studio a della rai di torino e questo applauso che vi arriva è quello del pubblico che qui in sala con noi eccolo qua allora ragazzi stasera c'è la sorpresa avevamo parlato di un seguito del concerto di natale di super sonic e avevamo detto che ne avremmo fatto uno al mese oggi 21 febbraio è il primo della serie e naturalmente niente dischi questa sera ma ci sono i cantanti e i complessi in carne e d'ossa il rovescio della medaglia ivano fossati e oscar prudente e mia martini assisterete assisterete a un concerto pop senza soluzione di continuità cioè un brano dopo l'altro così una cosa che solamente noi di super sonic facciamo i brani sono scelti da guido denti cetoni non riuscito il programma è a cura di mario colangeli in regia ci sono gilberto bosco per la parte musicale e walter borghi con raul manciulli per la parte tecnica naturalmente anche stasera se andiamo anche se andiamo dal vivo con il pubblico ci sono delle dediche per alcuni di voi la prima è per anna maria che è un australiana anne marie che vive però a brescia perché il padre e la madre sono italiani e dopo tanti anni sono ritornati in italia poi la seconda è per giosi di roma ecco questo era super sonic nel 1974 invece quello che ascoltiamo adesso è antonio de robertis nel 2016 cari amici di fano vi confesso che mi sento un po birlusconi sapete la faccenda degli audio messaggi ma beh cercherò di farmene una ragione diceva mio maestro enzo tortora se non volete annoiare state sotto i due minuti e spero di riuscirci i social sebbene usati sono utili a me hanno permesso diversi contatti piacevoli ad esempio con luca valentini che non conosco di persona ma che apprezzo per l'educazione e la gentilezza e anche perché dice di essersi ispirato al mio stile e quindi grazie luca luca e tutti voi rappresentate il mondo dell'emittenza privata alla quale noi in un certo senso abbiamo dato il la anche battendo la canzone di eugenio finardi che dà il titolo alla vostra iniziativa beh a questo punto parlare di super sonic è fatale dal momento che a 45 anni di distanza dalla prima puntata è ancora vivo nella memoria anche noi ovviamente ci siamo ispirati a qualcosa a qualcuno perché nessuno nasce imparato ci siamo ispirati a radio luxemburg e ne abbiamo fatta di fatica a cambiare i modi tipici della rai possiamo dire con orgoglio che il miglior rock degli anni settanta tutti i grandi cantautori è un pensiero speciale va al mio amico lucio dalla e la prima e più bella disco music l'abbiamo lanciati noi ci ascoltavano in mezza europa anche al di là della cosiddetta cortina di ferro e le nostre scelte scalavano le classifiche è stato tutto molto bello ma gli anni passano bisogna riconfigurarsi per me è venuto il momento di tirare le fila e lo sto facendo con un mio spettacolo multimediale al quale dedicata anche una pagina facebook grazie a documenti sonori alcuni molto rari e a quasi 200 fotografie racconto la storia della radio a partire dal primo annuncio del 6 ottobre 1924 fino ai nostri giorni con me ci sono un pianista e un flautista di fama internazionale che eseguono alcune composizioni famose del novecento il titolo è l'ha detto la radio sì perché quando la radio era autorevole una notizia non poteva che essere vera se l'aveva data alla radio se lo spettacolo dovesse interessarvi potremmo parlarne e venire anche da voi intanto grazie dell'ospitalità saluto tutti luca valentini in particolare buon divertimento e viva la radio sempre per per chi non mi conosce non sono un di giochi non ho mai parlato in radio e ho lavorato sempre dietro le quinte o meglio dietro i microfoni dal 76 a radio esmeralda per 17 anni quindi fino al 93 quindi ho vissuto questi baldi giovani cioè li ho visti crescere prima diceva ponzetto che ha 22 anni nel 76 io nel 76 c'è sergio che ride laggiù perché anche lui era un baldo ragazzino e busca e io ne avevo 29 e mi ero appena sposato circa un mese quando un amico a me mia moglie io anzi dico che sono arrivato a radio esmeralda grazie a mia moglie perché mia moglie aveva cantato nel coro polifonico malatestiano e questo amico comune ci fermò ricordo davanti alla chiesa di santa maria nuova e di se ho tu che hai cantato nel coro potresti avere una bella voce perché sta nascendo una radio potresti essere utile anche dopo qualche settimana dalla nascita della radio che come mi ha ricordato enrico regnier nel 2001 quando festeggiamo i 25 anni di radio esmeralda al ristorante l'alberone mi sembra luca si all'alberone e la di smeralda iniziò le trasmissioni il 16 settembre 1976 noi e mia moglie arrivamo circa una settimana dopo e troviamo a radio un amico comune che ora non c'è più qui c'è la moglie aladino mencarelli io vorrei un applauso per al di per aladino perché aladino che poi è passato alla rai di ancona è stata una colonna importante per radio esmeralda e ricordo la prima pubblicità la prima pubblicità fatta da mia moglie e da aladino nel 76 i primi diciamo il primo mese della nascita della radio fu fatta in una specie di cucina perché eravamo la radio nacque a san viaggio nel convento di san viaggio in una stanzetta di 10 metri quadri non lo so molto più piccola con ponzetto regnier luca arrivato dopo mi sembra ed altri tutti i nomi non ricordo la memoria storica luca valentini delle radio lui si ricorda i nomi di tutti io sì me le ricordo parecchi ma non è tutti quei giovani che sono passati dicevo la prima pubblicità la facciamo in una stanza che era insonorizzata no con quella roba la ma con delle mattonelle bianche quindi pensate che acustica era la pubblicità della pelleceria gentili mia moglie aladino fecero la prima pubblicità di radio esmeralda io da quella volta poi mi sono occupato sempre di pubblicità e di così inventare trasmissioni curare un po diciamo quello che era l'organizzazione delle trasmissioni cioè perché allora le radio erano per me molto più genuine di quelle di adesso cioè non lo so adesso non ce l'ho con le radio adesso anche perché non le ascolto più le radio private perché forse sono diventato anziano mi piace ascoltare anche dei discorsi un pochettino più impegnati rispetto al titolo del disco e poi il brano e quelle cose lette magari su internet oppure una volta le leggevo non ricordo su televideo almeno da quelle volte che ascoltavo che ho ascoltato le radio private dieci anni fa attualmente ripeto non non li ascolto più o non ne volete ma è così so vecchio ormai quindi ascolto la rai e basta e dicevo allora erano spontanee le radio private erano genuine cioè si inventavano lì al momento ricordo Busca con il compianto Massimo Toni le loro trasmissioni con le scenette a due voci allora cominciamo a fare le trasmissioni a due voci con due speaker adesso sono frequentissimi insomma allora invece era soltanto il di giochi presentava il disco faceva ascoltare il disco eccetera e inventarono la trasmissione a due voci con gli sketch con le scenette ti ricordi Sergio quella del peschereccio la scuola guida per i pescherecci di Massimo Toni che poi vabbè lasciamo perdere poi inventammo ad esempio i giochi i giochi con gli ospiti in studio concorrenti in studio con pulsanti puoi dire anche il soprannome che avevi eh ti avevano soprannominato il cervellone il cervellone perché inventavo queste cose assieme ad Aladino però Aladino fece il presentatore allora di questo gioco che eh durò per era dopo cena per parecchi mesi vinse ricordo eh la signora eh che l'arte sarda l'arte sarda la la madre di Bruno eh di Mariotti vinse un giacotto una pelliccia offerta da da gentili ma era c'erano i concorrenti in studio con due pulsanti che mettevano rumori diversi per far individuare chi schiacciava per prima e poi con l'aiuto da casa uno dei primi giochi radiofonici inventati col presentatore appunto Aladino e ne inventammo tante allora e quindi è stato il mio quel periodo io ripeto ero il più grande io e Aladino avevamo la stessa età questi giovinastri ce ne avevano 17 noi ce ne avevamo 29 di anni e quindi e ne ho visti tanti tantissimi sono passati addirittura eh militari della caserma di Fano che vennero a fare i giochi a Radio Smeralda poi Luca ricordi quello che quel signore della nazionale italiana tifoso quello grosso eh Serafino Serafino eh la vedevamo in radio ogni tanto veniva Fano se piazzava lì a sedia era grosso proietto come una barca con la maglietta della nazionale italiana beh per dire insomma che in 17 anni ne ho viste ne ho viste parecchio sempre ripeto dietro dietro le quinte mai soltanto per un certo periodo quando la radio da via Madonnamare si trasferì in via Cattaneo io e Luca ci alternavamo facevamo la rassegna stampa al mattino l'unica volta che ho preso il microfono eh per parlare eh appunto in 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 radio eh ci sarebbero tante altre cose a ricordare Luca forse mi ha chiamato a parlare questa sera per far vedere l'altra faccia della metà il medaglia oltre appunti di giochi la musica anche quello che c'era dietro eh appunto una radio privata di di quei tempi allora Maurizio il brano che un brano che ha scelto sì sì questa era una trasmissione di Radio Esmeralda molto molto seguita perché era dediche e richieste dediche e richieste musica amica non so se c'è Marles Roberto Tonelli questa era la prima eh la prima la prima sigla storica c'era addirittura la telefonista che riceveva le telefonate Eleonora Eleonora della Santa Eleonora che riceveva le telefonate e Marles che eh che presentava ma allora c'era non lo so quante persone che telefonavano e c'erano gli gli affizionados cioè quelle che tutti i giorni regolarmente a una certa ora c'era una signora che addirittura da voce postava paste e torte eh in radio anche perché abitava noi eravamo in via Madonna Mare lei abitava eh come si chiama l'Anella l'Anella è morta poverete adesso ho incontrato il marito eh tempo fa ancora si ricorda anche lui di quel periodo di musica mica si ricorda perché la moglie appunto tutti i giorni faceva le dediche poi ci portava eh pasticcini oppure torte che lei faceva eccetera eh la musica e la musica mica che andò avanti non mi ricordo per quanti anni poi dopo per molti anni poi ovviamente ci fu un cambiamento andammo in via Madonna Mare arrivarono altre persone e io dopo 17 anni e mia moglie lo dico fumo cacciati fumo cacciati in malo modo questo è un sassolino che io ogni tanto mi tolgo dalla dalla scarpa fumo cacciati come dipendenti io ero volontario perché io già insegnavo da molti anni quindi lo facevo soltanto così per passione e non certamente per per i soldi io non prendevo manco 50 centesimi da Radio Esmeralda e fumo convocati voi non ci servite più andate via perché adesso c'è qualcuno di nuovo che eh prende la radio e non dico altro grazie grazie Maurizio abbiamo un altro contributo audio altro programma sempre della RAI perché la RAI era la radio di stato però non dobbiamo dimenticare che per noi è stata un punto di riferimento un modello dicevo un altro programma storico della RAI è RAI Stereonotte nel 1982 la RAI comincia a trasmettere in FM proprio perché le radio private avevano riscuotevano un grandissimo successo in tutto il territorio la RAI era in forte in forte perdita di ascolti quindi nel 1982 c'è lo sbarco in FM della RAI e lo fa abbastanza pesantemente RAI Stereonotte adesso ce ne parlerà l'interessato era un programma un po' particolare un ibrido era la radio privata dentro la radio di stato perché cominciavano a trasmettere a mezzanotte e mezza fino alle sei del mattino il contributo che mandiamo in onda è di Alberto Castelli di Roma che è un giornalista musicale un critico musicale oltre che giornalista della RAI e che adesso ci ha dato questo suo contributo molto piacevole e se una radio è libera ma libera veramente diceva così la canzone se non sbaglio beh io sono stato particolarmente fortunato perché quella stagione lì quando le radio erano libere veramente l'ho vissuta ero molto piccolo ero molto giovane in formato mini appunto e mi sono avvicinato a questo mondo grazie alla passione per la musica e poi perché era fondamentalmente divertente poi perché era una cosa che che nasceva e quindi non c'erano tante regole probabilmente non eravamo neanche così bravi e così preparati però l'energia la spontaneità e soprattutto la gioia di fare quella cosa ci dava la spinta per andare avanti e anche se il termine allora non era molto in voga come oggi in realtà condividevamo cioè era proprio un momento di condivisione tra la propria sensibilità le proprie passioni e quelle delle persone che ci ascoltavano e non c'erano tanti modi per entrare in contatto come oggi c'era semplicemente solamente il telefono però non solo appunto riuscivamo a condividere queste cose ma riuscivamo anche a comunicare e abbiamo anche così facendolo giorno dopo giorno imparato messiere imparato la tecnica lo stile la padronanza e tante altre cose ancora e abbiamo scoperto che la radio era una sorta di elettrodomestico sentimentale e comunque un mezzo di comunicazione che non era invasivo come la televisione potevi ascoltare la radio e contemporaneamente fare altre cose lavorare studiare e credo che nonostante i grandi cambiamenti tecnologici nonostante i cambi generazionali questa semplicità e questa immediatezza del mezzo radiofonico siano ancora le sue caratteristiche e le sue qualità più importanti e più significative io cominciai appunto in quella stagione delle cosiddette radio libere vuole a dire seconda metà degli anni 70 poi per quasi 40 anni sembra strano a dirlo ma è così ho lavorato in rai e poi anche per network radio e via dicendo insomma sicuramente un turning point un punto di svolta o comunque una cosa molto importante probabilmente la più importante che ho fatto in tutto questo periodo fu sicuramente l'esperienza a stare a notte che ando avanti in interrottamente dall 83 al 95 poi ho ripreso a farla nella seconda metà del 2000 ma era tutta un'altra cosa secondo me quelli dall 83 al 95 sono stati i giorni d'oro i golden days di quel programma anche lì tutto nacque anche per caso insomma la rai aveva aperto dei canali stereo stereo per cercare di riconquistare soprattutto quel pubblico giovanile che aveva perso con l'arrivo appunto delle radio libere e delle radio private e di notte si creò questo spazio invitante ma che i vertici dell'azienda non consideravano poi così strategico così importante mi ricordo insomma che ci dissero che potevamo mettere tutta la musica che volevamo tanto non ci avrebbe sentito nessuno le cose per nostra fortuna per vostra fortuna nel senso che magari proprio oggi tra di voi c'è qualcuno che ha seguito quel programma in quel periodo le cose non andarono esattamente così perché poi in realtà è diventato un programma storico un programma importante e un programma che secondo me ha avuto il merito tra gli altri di avvicinare tante persone al mondo della musica e credo anche più in generale al mondo della comunicazione quindi al mondo delle radio a me fa molto piacere che a volte insomma intercetto incontro delle persone che mi hanno detto che hanno cominciato a fare questo lavoro comunque hanno cominciato a fare radio proprio perché ci ascoltavano di notte ovviamente era un programma particolare e però lo ricordo con grande piacere soprattutto perché l'ho quasi sempre condotto nel periodo che partiva dalla tarda primavera fino all'autunno e quindi tutta l'estate e ci sono un sacco di canzoni legate all'estate ci sono anche i cosiddetti tormentoni che negli ultimi anni proprio come le mezze stagioni non ci sono più e sicuramente c'è una canzone che è legata all'estate e che in particolar modo per quel che mi riguarda è legato a quel periodo è una canzone di paul weller nel suo periodo self council ed è intitolata non a caso long hot summer ecco questa credo che sia stata la canzone che ho annunciato più volte nel corso di quegli anni passati d'estate di notte d'autunno a condurre sterea notte e anche in quel caso credo che abbiamo fatto una radio libera ma libera veramente grazie e buona giornata e buon divertimento con la radio con la musica e con tutto quello che volete grazie grazie